Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per motivi di terrorismo emesso dal Tribunale Penale di Bari. Terza sezione misura e prevenzione riunito in Camera di Consiglio nei confronti di Alfredo Sant'Amato, residente a Turi. Il Tribunale ha così di fatto confermato che Sant'Amato sia da ritenersi soggetto socialmente pericoloso in quanto rientrante tra coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti alla Commissione dei Reati con finalità di terrorismo anche internazionale, ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche. L'uomo, attraverso la rete, ha infatti stretto amicizia con persone che praticano l'apologia di terrorismo o sono essi stessi giadisti e ha condiviso sui social una serie di messaggi farneticanti integralisti che esaltano la lotta contro il nemico e giustificano gli sgozzamenti. In accoglimento della proposta del Procuratore della Repubblica, il Presidente del Tribunale per le misure di prevenzione aveva già sottoposto di recente nei confronti di Sant'Amato l'applicazione in via provvisoria ed urgenza della misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, del ritiro del passaporto e la sospensione di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio. La misura eseguita ieri dai poliziotti della sezione antiterrorismo della Digos di Bari è stata disposta ai sensi della normativa speciale introdotta nel 2015 per la prevenzione e il contrasto delle nuove fenomenologie del terrorismo internazionale di matrice islamica. La proposta era stata avanzata dal dottor Carmelo Rizzo della Procura della Repubblica di Bari di Dia sulla scorta degli esiti investigativi della stesso Digos. Il provvedimento giudiziario impone all'uomo, oltre all'obbligo di rimora nel comune di residenza, anche il divieto di utilizzo di apparati per le connessioni internet proprio sul web. L'uomo aveva espresso le proprie posizioni oltransiste e intrattenuto contatti con internauti già segnalati in altre indagini di settore concluse in Italia. La misura che deve considerarsi un'assoluta novità nel panorama italiano si pone nel solco di recentissime pronunce comunitarie in tema di deradicalizzazione che si inquadrano nell'ambito delle nuove strategie internazionali per la prevenzione al terrorismo giadista. Il Tribunale di Bari, preseduto dalla dottoressa Francesca Lamalfa, ha previsto che il Sant'Amato sia sottoposto a un percorso di recupero socio-giuridico-culturale, anche con l'intervento di figure esperte nella mediazione culturale e con il coinvolgimento dell'Università di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza già impegnata nella definizione di programmi di studio sul tema dei rapporti tra Stato e religioni.